Buonasera ben ritrovati con l'informazione del quotidiano l'attacco. Dopo la batosta delle regionali il Movimento Cinque Stelle non può sbagliare la sfida delle comunali di Foggia. La palla è in mano al neocoordinatore provinciale Mario Furore. Sentiamo Lucia Piemontese. Il Movimento Cinque Stelle, la pesantissima batosta delle elezioni regionali in Lazio e Lombardia è arrivata quando mancano circa otto mesi alle comunali foggiane che con brindi si rappresenteranno il primo e vero banco di prova a cui sarà chiamato il Campo Largo, benedetto in Puglia d'Emiliano e Conte e formato da PD pentastellati e civici del presidente della regione. Che ripercussione possono avere le regionali rispetto al voto di Foggia che avverrà in autunno dopo circa 29 mesi di commissariamento dell'ente? Se i contiani non sono bravi e rapidi rischiano di vanificare il doppio vantaggio competitivo acquisito negli ultimi mesi. Da un lato il primato affoggia le politiche del venticinque settembre quando conquistarono il quarantun per cento nella città capoluogo. Dall'altro lato l'accordo tra Conte e Emiliano che ha consegnato loro la palla rispetto alla scelta del candidato sindaco. Il neocoordinatore provinciale, l'euro parlamentare Mario Furore, non potrà sbagliare la strategia, le alleanze e la scelta dei nomi su cui puntare a cominciare appunto dal candidato sindaco. In Puglia sono oltre 50 le vertenze di lavoro aperte e per le quali ancora non ci sono risposte. Ci sono problemi legati più in generale all'occupazione, all'assistenza e alla sanità. Sono alcuni dei temi toccati nel corso dell'assemblea regionale dalla UIL, assemblea che si è tenuta questa mattina a Bari, che ha visto la partecipazione del segretario nazionale Bombardieri. Sentiamo. In Puglia sono oltre 50 le vertenze aperte per le quali ancora non ci sono risposte. Ci sono problemi legati alla crisi del settore automotive, all'occupazione, all'assistenza e alla sanità. Sono alcuni dei temi affrontati nel corso dell'assemblea regionale della UIL a Bari dal segretario nazionale Pierpaolo Bombardieri. Al momento il sindacato sul territorio è guidato dal commissario straordinario Emanuele Ronzoni. Tra i temi affrontati occupazione e salari, perché quelli della Puglia, è stato detto, sono i più bassi rispetto ad altre regioni. Criticità irrisolte su assistenza e sanità. La UIL chiede investimenti sulle infrastrutture, sui porti e sulle ferrovie e chiede al governo regionale un tavolo tecnico per trovare le giuste soluzioni. Quanto all'elezione del nuovo segretario regionale dopo l'allontanamento di Franco Busto, c'è una discussione che coinvolge tutta la struttura. Appena ci saranno le condizioni sarà eletto il nuovo segretario. Noi crediamo che sia arrivato il momento che in Puglia si facciano degli investimenti anche sulle infrastrutture, strade, aeroporti e tutta la questione portuale. Noi pensiamo che sull'autonomia differenziata sia necessario chiarire che al mezzogiorno e alle regioni del sud, prima di parlare di autonomia differenziata, sia necessario garantire pari opportunità. E se oggi pensiamo alla sanità, al lavoro, alle politiche sociali, alla scuola, alle opportunità che noi diamo ai giovani, c'è una differenza fra le regioni del sud e le regioni del nord. Quindi noi chiediamo al governo e chiediamo che le regioni si facciano anche portavoce di questa situazione, che prima si superano le differenze e poi si parla di autonomia differenziata. Entro la fine di febbraio una buona notizia per la provincia di Foggia. Dicevamo entro la fine di febbraio prevista la gara per l'ampleamento della statale 16 nel tratto Foggia-San Severo, denominata la strada della morte a causa dei numerosissimi e frequenti incidenti mortali. Ne ha dato notizia il consigliere regionale Antonio Tutolo. Il progetto esecutivo per i lavori di ampliamento della statale 16 nel tratto che collega Foggia a San Severo è stato approvato e a fine febbraio sarà indetta la gara per una spesa complessiva che si aggira sui 181 milioni di euro. A darne notizia è il consigliere regionale del gruppo misto Antonio Tutolo, presidente della seconda commissione del consiglio regionale pugliese. L'inerzia perdurava dal 2017, poi c'è stata la forte accelerazione imposta anche dalle proteste portate direttamente da Tutolo sulla famigerata strada della morte. Il consigliere regionale ha incontrato Vincenzo Marzi, responsabile ANAS della struttura territoriale Puglia. È chiaro, ha detto Tutolo, che nessuno potrà restituire ai cittadini della provincia di Foggia il tempo sprecato e soprattutto le tante vite perdute su quella maledetta strada che avevo eletto simbolo dell'abbandono dell'intero territorio. Dal 2017, anno in cui arrivò il finanziamento di 130 milioni di euro, non si era mossa una foglia, anzi denunciai che ormai la somma stanziata sarebbe stata insufficiente a causa dell'aumento dei prezzi dei materiali e che ci sarebbero voluti altri 50 milioni di euro per realizzare l'opera. Oltre un miliardo di euro per l'aggiornamento del piano di tutela delle acque in Puglia si punta sul riutilizzo di queste acque e quindi sul riutilizzo dei reflui da destinare all'agricoltura. Sentiamo. Parere favorevole all'unanimità della quinta commissione consigliare pugliese coordinata dal presidente Paolo Campo alla delibera con la quale la giunta regionale ha aggiornato il piano di tutela delle acque. Un piano da oltre 1,1 miliardi che prevede tra le altre cose l'estensione del servizio fognario, il potenziamento della depurazione e il riuso delle acque reflue. Per ottenere questi risultati, commenta Campo, il vicepresidente della regione Raffaele Piemontese ha annunciato un programma finanziario di oltre 1,1 miliardi di euro che semplifica efficacemente l'importanza della sfida ingaggiata dalla regione Puglia per tutelare e usare con maggiore efficienza questa preziosa risorsa pubblica e la regione per cui il piano aggiornato punta molto sul riutilizzo delle acque reflue per usi agricoli e industriali. L'obiettivo dichiarato è investire per risparmiare l'impiego di risorsa proveniente dai fiumi e dalle falde sotterranee, sempre più a rischio salinizzazione avendo l'ulteriore beneficio della riduzione degli scarichi inquinanti. Non soltanto balneazione ma anche tanta musica, cultura e sport. Il comune di Vieste ha lanciato alla Borsa internazionale del turismo di Milano il suo cartellone estivo per il 2023. Tanti gli eventi in programma che vanno a coprire un arco temporale che va dal mese di aprile al mese di settembre. Ce ne parla Domenico Suriano. Musica, libri, cultura, enogastronomia e sport. Vieste gioca d'anticipo e anche quest'anno rende note sin da subito le principali manifestazioni che andranno a riempire il cartellone estivo del 2023. Cinema, teatro, musica d'autore, libri, serate enogastronomiche, folklore, sport e tempo libero andranno a caratterizzare i mesi da aprile a settembre della capitale turistica garganica che ha presentato il suo programma nel corso di una conferenza stampa tenuta alla Borsa internazionale del turismo di Milano con il sindaco Giuseppe Nobiletti e i suoi assessori. Non solo balneazione dunque ma come accade ormai da diversi anni anche eventi culturali, sportivi ed intrattenimento saranno offerti ai numerosi ospiti che da marzo ad ottobre riempiono le strutture ricettive della città. Tra le tante iniziative in programma spiccano alcune in particolare. Su tutte il Vieste Archeofilm, il grande festival internazionale del cinema di archeologia, arte e ambiente organizzato a cadenza annuale da archeologia viva. Un altro evento di primo piano è quello dal titolo Libro Possibile. Si tratta di una rassegna letteraria tra le più famose d'Italia, tale da essere considerata una delle manifestazioni più riuscite nell'intero panorama culturale italiano. Ancora, dal 31 luglio al 5 agosto, è prevista la diciannovesima edizione del Fest Ambiente Sud, il festival nazionale di lago ambiente per il sud Italia. Un ecofestival riguardante le questioni meridionali. Ricordiamo poi Vieste in Love, una kermesse di eventi allestimenti speciali, diventato un appuntamento fisso per vestiani e turisti, che si tratta dal 4 al 10 settembre. Renato Raimo è tornato in teatro con l'altro Giacomo. È quello di ieri sera al teatro comunale Giuseppe Verdi di San Severo. È stata l'unica tappa in Puglia. Venerato, odiato, spiato, inseguito. Giacomo Puccini, l'uomo con i suoi pregi e i suoi difetti, i suoi valori più o meno condivisibili e le sue passioni. Il Puccini ricercato attentamente nella sua biografia da Renato Raimo nell'opera sceneggiata con Chris Wreiter. Raimo è nato a San Severo e ha vissuto a Torre Maggiore. L'opera andrà al festival Pucciniano, che anticipa le manifestazioni nel centenario della morte del grande compositore nel 2024. Sentiamo Beniamino Pascale. E allora è con tutto l'entusiasmo che vi ringrazio. Ringrazio la città di San Severo, l'assessorato alla cultura, per aver creduto in questo progetto. L'altro Giacomo si è appena concluso. È stato un vero successo la reazione del pubblico che mi rende orgoglioso di aver creduto in questo particolare progetto che mette al centro la figura di Giacomo Puccini, non solo nel suo aspetto di quello che è il grande compositore che tutti conosciamo e del quale iniziano le celebrazioni per il centenario della morte, ma soprattutto l'uomo, l'altro Giacomo appunto, con le sue passioni, con il suo attaccamento alle cose della vita che lo hanno mosso, gli hanno tracciato un sentiero importante da cui lui ha attinto forza e energia per regalarci la sua grande musica. Lo spettacolo è un equilibrio giusto tra prosa e musica, filologicamente costruito dal direttore musicale Carlo Bernini e racconta un viaggio attraverso l'uomo e che ci porterà poi dentro la sua musica. Chiudiamo con lo sport, non ce l'ha fatta il Foggia a centrare l'accesso alla doppia finale di Coppa Italia di Lega Pro. Ieri sera i rossoneri ad Alessandria davanti ad oltre 2.000 tifosi giunti nel capoluogo da tutto il nord Italia sono stati eliminati alla lotteria dei rigori dalla Juventus Next Gen dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi con l'identico 2 a 1 maturato nella gara di andata dello Zaccheria. Il gol iniziale di Costa ha illuso la formazione di Gallo che poi ha dovuto subire il ritorno prepotente dei bianconeri che sono riusciti alla distanza a ribaltare il risultato. Ora per il Foggia resta a disposizione solo il campionato per centrare la migliore possibile posizione nei playoff. Questa era l'ultima notizia grazie per essere stati all'ascolto vi ricordo l'appuntamento serale con il quotidiano web l'attacco alle ore 20. Grazie e buon proseguimento di serata da Onofrio D'Alessio.